Signore e signori, devo far vedere anche la tica piccola e mi sono dimenticato di farla vedere la prima perché prima c'era la tica piccola e ora la faccio vedere che stiamo quasi arrivando. Per andare alla tica, ora stiamo andando nel mio paese, ci ho messo 10 minuti per andare alla tica grande, invece con la piccola ci metti 5 minuti, 10 minuti ci ho messo, cioè raga, mamma mia, ora stiamo arrivando alla tica piccola. Cioè praticamente siamo venuti con la nebbia, qua non si vedeva niente, sembra che è dell'Ucraina, sembra, che sparano le bombe. Non è tanto particoloso come la tica. Sì, papà, mi dice mia mamma che è per il... Ecco qua la tica. Cioè praticamente erano un po' calate, prima dove c'era quella striscia là. Ecco, ma adesso non è più... Vedete quella striscia bagnata? Ecco, prima era fino a là, poi sono andata nel fiume, l'hanno calata. E grazie, qua c'è la centrale, aiuto le nezioni. E vabbè, raga, al posto di qui. Ciao raga.